Ha optato per il rito abbreviato il ventenne Kosovaro che era diventato l'incubo degli studenti e aretini dopo aver messo a segno una lunga scia di rapine, 14 quelle denunciate, ma che potrebbero essere anche molte di più. Il giovane questa mattina si è presentato di fronte al GIP Fabio Lombardo per l'udienza preliminare. Il legale del ragazzo, l'avvocato Andrea Palazzeschi, ha chiesto che il processo venga celebrato con il rito abbreviato condizionato alla produzione di una consulenza tecnica volta ad accertare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato. Il ventenne, con numerosi precedenti penali alle spalle, era stato arrestato dalla squadra mobile di Arezzo lo scorso 22 maggio. La polizia aveva infatti accertato 14 casi di rapina a tutti i danni di ragazzini delle scuole medie e superiori di Arezzo. Il 22enne agiva sempre allo stesso modo, aggrediva i giovanissimi, in alcuni casi anche con particolare violenza. Ad un ragazzino che si era opposto alle sue angherie aveva infatti rotto il setto nasale. Gli episodi si erano tutti consumati in zone di passaggio degli studenti, da via 25 Aprile al parco Pertini, sino al sottopasso di via Trasimeno, nel mirino del rapinatore, soldi e cellulari, bottini di piccole entità che gli servivano per comprare la dose di sostanza stupefacente. La prossima udienza è stata fissata per il 12 dicembre.